Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video ti spiego come ridurre il frame lag come puoi vedere io sto frame laggando su Apex ovviamente come puoi vedere sono riuscito a risolvere il problema quindi in questo caso in questo breve tutorial ti spiego come ridurre il frame lag come puoi vedere ho preso l'arma sto sparando senza nessun problema eccolo, ecco la differenza quindi in questo breve tutorial faremo subito subito quindi iniziando prima ad aprire le impostazioni di Apex quindi iniziamo prima con la modalità dello schermo quindi da schermo intero mettiamo finestra senza bordi e applichiamo così l'impostazione come puoi vedere qua ci dice che l'ombra è estrema quindi riguardo alla qualità mettiamo tutto basso qui sotto tutto basso saliamo un po' su sulla qualità ombra mettiamo tutto disattivato sui altri dettagli come puoi vedere qui qualità dettagli ombra è estrema quindi mettila su bassa e sul filtro textualisotropico metti 4x e sulla qualità costruzione ambientale metti bassa e ovviamente sul V-Sync ovviamente questo V-Sync va usato con lo schermo intero ma noi andremo un attimo a vedere cosa possiamo fare con lo schermo intero senza bordi quindi mettiamo doppio e come puoi vedere vediamo un po' se il frame laggo si, si, stiamo un po' laggando quindi in questo caso va risolto con lo schermo intero e il V-Sync attivato quindi cosa facciamo? mettiamo lo schermo intero facciamo applica e mettiamo adattivo e facciamo applica una volta fatto non ci resta che provare Apex e vedere cosa è uscito fuori qui invece mi sono dimenticato mettiamo tutto basso ok sto muovendo la visuale per ora non vedo nessun frame lag e Apex si muove veramente fluido senza problemi sto facendo un giretto e per colpa del frame lag se tu provi a venire là spari alla cassa quindi vai in ritardo e hai problemi e perdi la partita quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao